Come ogni ottobre faccio un video per invitarti al rumore del lutto. Anche quest'anno Parma sarà animata dagli eventi della rassegna Il rumore del lutto, una rassegna voluta da Mariangela Gelati e Marco Pipitone che quest'anno arriva alla sua tredicesima edizione. L'edizione del 2019 si intitola Passaggi e animerà Parma dal 30 ottobre al 4 novembre 2019. Ricco anche il programma delle anteprime, ne avremo infatti il 12, il 19, il 26 e il 27 ottobre. Ovviamente ti linko qua sotto in infobox il sito ufficiale della rassegna in maniera tale che tu possa scoprire il ricco programma e i ricchi appuntamenti presenti per questa edizione. Io ti aspetto il 19 ottobre dalle ore 17 presso la Galleria San Ludovico di Parma per il Gala in Nero e il concerto di Kirlian Camera. Tutte le informazioni a riguardo le trovi sia sul sito ufficiale della rassegna ma trovi anche tutte le informazioni all'interno dell'evento creato su Facebook che trovi ovviamente linkato qua in infobox. Ti rimando quindi dei link per tutte le ulteriori informazioni. Aspetto i tuoi commenti ovviamente per ulteriori informazioni riguardo alla manifestazione. Io ti ringrazio per l'attenzione e ti aspetto al rumore del lutto. Ciao e a presto! Io ti ringrazio per l'attenzione e ti aspetto al rumore del lutto. Io ti ringrazio per l'attenzione e ti aspetto al rumore del lutto. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.